Attenzione, mi raccomanda a tutta la popolazione di seguire le indicazioni per il contenimento del coronavirus, sono vietati gli assembramenti, non realizzare tutti in casa, si direttore sostanzialmente con tutti i lavori, salute e l'applicazione di tutti i dati, tutti i sottotitoli, non realizzare tutti i dati, non realizzare tutti i dati, non realizzare tutti